La barca della posta per Napoli, con a bordo Ingeborg, ha appena lasciato la darsena del porto di Ischia. Di nuovo sta piovendo, una piaggiarella autunnale. Torno a casa, la musica per il Koningisch, con dei pezzi di legno accendo il fuoco nella mia piccola stufa. Ho un unico desiderio, che la mia composizione corrisponda alle mie aspettative. Verso le 5 del pomeriggio, sento bussare alla porta, riconosco il segnale. Sono i Walton, sono venuti a prendermi per una passeggiata. Li avevo conosciuti qualche settimana prima a casa di Odan e Kalman. La barca della posta per Napoli, con dei pezzi di legno accendo il